Quando l'ha comprata la lavatrice? Quando sono uscita me la sono comprata sui miei compiti, però non ne so di quando. Ma fino a quel momento i panni, il bucato, come si... La fontana, l'olio di erigomito. A mano? A mano. Fuori? Fuori? O dentro casa? No, in terrazza avevamo le fontane. E quindi si andava... E ci avevamo i giorni oggi, doccate, domani doccate, perché si impivano queste due vasche d'acqua e si lavava lì. L'acqua era fredda? Sì, sì. E d'inverno? L'inverno uguale. Uguale. Ma si lavavano... Ma si lavavano coperti, eh? E però con l'acqua fredda comunque... Beh, Dio mio, noi le mettevamo al bagno in acqua e sapone tiepido. C'eravamo i bagnaviedi grandi, facevamo questo sapone, poi facevamo strada, 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 tutti ben allargati, la biancheria da sola. Poi quando c'erano quelli dei colori, allora un capo per volta e ci siamo arrangiati così. Ma ci si metteva molto tempo tra mettere a bagno, poi sciacquarli... Per me, quando era il giorno che si doveva lavare... E poi quando avevano aggiornato, e le fontane erano a disposizione di quel giorno, di Inzia Caia perché stavano in un palazzo. All'ultimo piano... All'ultimo piano... E bisognava anche salire... All'ultimo piano, sì... Però all'ultimo piano c'era l'acqua... Sì, sì... E quando è arrivata la lavatrice è stata una meraviglia... Senta, si ricorda quando avete comprato la prima automobile? Eh, però non l'ha nata... Sì, vabbè, era comunque... Che cosa è cambiato quando è arrivata la macchina? Eh, beh, era una comodità... Dove andavate? Andavamo... Io e mio marito dappertutto con quella macchina... Una Renault di seconda mano compramo... Verde metallizzato... Io ogni giorno la faccio dalla finestra che si era costeggiata... Dico, mamma mia quanto è bella... Da sopra, sembrava tanto bella... Era una macchina come in altri... Avete cominciato a fare le gite fuori porta? Sì, sì, sì... Io e mio marito abbiamo girato quasi tutta l'Europa... Perché a lui gli piaceva... Io sono stata... Non mi ricordo tutte le cose... Però sono stata in tante parti... Le cose... Che cosa è arrivato.... Il mondo è il mondo è dell'Âm... Che cosa è il mondo... Che cosa è l'esemunico... Che cosa è la macchina? Grazie a tutti.